Una quantità notevole di risorse per il Piceno? Sì, 585 milioni di euro di investimenti già erogati per la sola provincia di Ascoli Piceno, una somma grandissima e se pensiamo che sono anche quelli del terremoto ci sono inclusi, ma che 172 milioni sono extraterremoto, quindi sono cifre veramente molto alte. Faccio un esempio, 102 milioni di euro per rinnovare le scuole della provincia di Ascoli, quindi scuole nuove o scuole dal punto di vista sismico adeguate perfettamente. Una grandissima attenzione da parte della regione per il Piceno, che non è più la cenerentola, ma anzi la quota pro capite di questi finanziamenti vede il Piceno prima provincia delle Marche.